I'm the realest one that's rapping, oh my god, oh my god, if I am a lead, and when they lay me down a rap, I know I was always rapping Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark House Night 2 Oggi siamo qui per una guida di Fortnite Ovviamente non è come le guide normali, quelle là, le sfide della settimana eccetera eccetera No, questo è come ottenere la emote, quindi l'emote boogie down gratuitamente, ok? Allora, piccoli passaggi semplicissimi, io già l'ho fatto però ve lo faccio rivedere, ho disabilitato l'autenticatore per farvelo vedere come si fa Allora, clicchiamo qui sopra, andiamo su gestisci l'account e vi porterà nel browser di internet appunto del vostro account di Epic Games, quindi di Fortnite, ok? Qua abbiamo tutte le nostre cose, andiamo su password e sicurezza, scendiamo, scorriamo verso il basso e troviamo abilita autenticazione email Ne abbiamo due ovviamente, possiamo farlo, l'abilitazione possiamo farlo anche da applicazione, quindi da mobile Oppure lo possiamo fare tramite il PC, chi gioca da PC Io vi consiglio di fare quella email perché è molto più semplice, quella con l'applicazione del vostro telefono, del vostro smartphone Automaticamente dovete scaricare l'app di Games, fare tre semplici passaggi eccetera eccetera Ma vi faccio vedere l'autenticazione email come si fa appunto perché io comunque l'applicazione Authenticator non ce la dovrei scaricarla, è un casino Comunque, abilità autenticazione email, vi dice, vi ha mandato nella vostra email il codice di sicurezza Quindi in questo caso andiamo subito nel nostro, appunto nella nostra email, andiamo a vedere effettivamente se c'è arrivato E appunto è questo qua, prendiamo il codice, lo copiamo e lo incolliamo qui e facciamo continua Automaticamente spunterà autenticazione email attivata Prossimamente al tuo prossimo login su Epic ti verrà richiesto di inserire il codice di sicurezza che ti verrà inviato all'indirizzo email associato al tuo account Faccio fatto, a me è spuntato così perché io ho disabilitato prima per fare il video appunto Comunque, con tutto questo io posso concludere quel video Mi raccomando, dopo aver finito di aver fatto questa cosa, chiudete, cliccate avvia e aprite il gioco Successivamente, quando andrete a cliccare battaglia reale, automaticamente vi apre battaglia reale Ma prima di aprirmi battaglia reale, vi spunterà appunto Hai ricevuto l'emote Boogie Down, gratuitamente Ragazzi, che vi devo dire? Io vi ringrazio ancora per la visione, questo video è stato breve ma intenso Per avervi fatto capire comunque come si ottiene questa emote molto figa Noi ci vediamo prossimamente con nuovi video e nuove live Dal posto DarkHouse92 è tutto Bella ragazzuali Yuhuuu!